Comincia a registrare anche l'audio? Si si tutto Peccatevi i numeri eh Con le gomme lisce Questo corso di guida è sicura Si alza su una ruota, attenzione Apre anche il piestino sto coglione Io mi so è normale Vemmega contro stesso Guarda se c'è gente affacciata Buo il panno Aiuto Cos'è quel pin? Andre vai a mettere in moto la tua? No no Tanto le gomme sono andate a cambiare Io appena giravate Taglia 1